è stato ritrovato il corpo della donna dispersa in seguito alla frana che si è verificata san felice a cancello agnese milanese questo il nome della donna era scomparsa il 27 agosto scorso insieme con il figlio giuseppe guadagnino dopo che i due erano stati travolti a bordo della loro apecar dal fiume di fango e detriti scesi giù con furia in seguito ad un violento nubifraggio dalla collina che sovrasta la frazione di talanico in questi giorni i vigili del fuoco di caserta hanno effettuato le ricerche servendosi di gommoni droni cani molecolari e nucleo sommozzatori concentrando le ricerche nell'invaso dell'ex cavagio dopo aver scandagliato in lungo e in largo il canalone che costeggia la frazione dove era stato rimenuto poche ore dopo la frana e rottame della apecar ed è lì che è stato ritrovato il corpo della 74enne madre e figlio il 27 agosto scorso erano andati a raccogliere le noci nel loro terreno alle pendici della collina che sovrasta la frazione quando furono sorpresi dal violento nubifraggio che ha provocato la colata di fango agnese e il figlio tentarono di sfuggire alla furia delle acque a bordo della loro apecar ma non riuscirono ad arrivare a casa perché furono travolti dalla frana ora si scava senza sosta per ritrovare anche il secondo disperso giuseppe guadagnino figlio 42enne della donna il nucleo sommozzatori e fluviale ha nuovamente calato un gommone per cercare all'interno dell'ex cavagio scatta settembre e la città torna a riempirsi inevitabilmente anche il traffico nei punti nevralgici e soprattutto in prossimità dei cantieri la ripartenza a pieno ritmo coinciderà con la riapertura delle scuole in calendario quest'anno il 12 settembre riprendono anche gran parte delle attività commerciali e il ritorno alla routine comprende tante categorie lavorative tanti ancora i turisti in città una ripresa faticosa anche a causa delle temperature alte e chi ha scelto di rimanere a napoli in questo periodo già rimpiange la tranquillità agostana non sono mai andato in ferie quindi sono stato benissimo da solo prima o poi doveva comunque ripartire tutto e niente dobbiamo ecco sono qui proprio a prendermi un caffè proprio perché bisogna veramente adesso darsi la carica per un nuovo anno sia diciamo dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista personale i negozi che ho visto che stavano aprendo stamattina perché l'orario intorno a quest'ora stavano mettendo un po d'ordine togliendo la roba che magari avevano dentro i negozi erano chiusi stavano mettendo ancora un po d'ordine forse metteranno ancora dei saldi visto che fa caldo i negozi il traffico purtroppo a napoli è quello che è ancora non ho visto un gran che spero che imboccando qui la via toledo di trovare già un pochettino di movimento il traffico è un po' sadoiato a piede perché sono fatti i maratoni la insomma a via roma non si può camminare proprio per stare bene siamo qua sotto all'arbero a fresco la vittoria al cardiopalma in extremis contro il parma ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi azzurri che però sono consapevoli che c'è ancora tanto da lavorare ma il futuro sembra rosio rispetto alla scorsa stagione anche perché i nuovi acquisti neres e lukaku subito si sono rivelati determinanti in attesa di vedere in campo anche mc dominei e gilmour i due centrocampisti scozzesi arrivate nelle ultime ore di mercato adesso c'è la sosta nazionale il napoli ha conquistato sei punti nelle prime tre gare e tifosi non aspettano altro che vedere i progressi della squadra di conte quando si vincono queste partite secondo me è un auspicio molto positivo per il futuro pure perché questi tre quattro giocatori una volta integrati bene nel sistema di gioco secondo me potranno dire la loro adesso con l'innesto di conto con questi tre quattro acquisti con il centro avanti come si chiama lukaku possiamo sperare qualcosa io spero almeno per i quattro cinque posti partita pazza stava lo stadio un'emozione unica il napoli sta riscoprendo la cattiveria che ha perso l'anno scorso quindi bene perché abbiamo vinto 2 a 1 in quel modo all'ultimo minuto con tanta cattiveria ma si può migliorare tanto ancora ho visto un gran bel parma dotato tecnicamente e atleticamente poi è uscito fuori il cuore del napoli e già è uscito fuori qualcosa di conte non si molla mai e si va avanti fino al 97esimo c'è stato un po di fortuna e crederci fino alla fine